I carabinieri della compagnia di Augusta e quelli dell'Aronautica Militare di Sigonella hanno portato a conclusione un'articolata attività investigativa coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone per dare esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Sinacusa su richiesta della procura nei confronti di otto persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata a reati di furto e recettazione commessi tra ottobre 2016 e febbraio dello scorso anno in vari comuni della provincia sia di Sinacusa che di Catania. Il provvedimento trae erigere una indagine condotta dai militari della stazione Carabinieri di Lentini dalla compagnia Carabinieri Aeronautica Militare di Sigonella e dall'aliquota operativa della compagnia di Augusta che ha consentito di disarticolare un sodelizio dedito alla commissione di furti aggravati di idrocarburi ai danni di oleodotti di collegamento tra la stazione di spinta Nato ad Augusta incontrata a San Cusumano e quella della base di Sigonella ma anche per le raffinerie Soasol Italy di Augusta e Isab di Priolo. I militari hanno fatto luce su vari episodi tutti accomunati allo stesso modus operandi secondo il quale i componenti dell'associazione, tecnici, idraulici e autotrasportatori dovevano noleggiato autovetture utilizzato telefoni cellulari a basso costo con schede telefoniche intestate a ignari te extracomunitari e così da alludere appunto le indagini investigativi hanno individuato il punto più idoneo dove effettuare estrazione praticavano quindi le buche del terreno perforando gli oleodotti per sottrarre gli idrocarburi nella maggior parte dei casi le operazioni si eseguivano in aree rurali impervie difficoltose da raggiungere nelle quali dopo una prima fase propedeutica costituita da un accurato sopralluogo inteso a individuare il punto idoneo veniva poi posizionata una ganascia metallica dotata di valvola regolabile in gergo denominata cravatta che veniva collocata sulla condotta per trasferire il carburante in autobotti dopo aver effettuato questa operazione provvedevano anche a realizzare scavi fino a due metri di profondità per raggiungere l'oleodotto i malviventi procedevano all'estrazione di cherosene anche in danno dell'amministrazione militare italiana e statunitense nel corso dell'indagine è stato accreditato il fraudolento impossessamento di qualcosa come 200.000 litri di carburante per un danno stimato in circa 170.000 euro in più causando un danno economico per il continuo ripristino degli impianti danneggiati e la bonifica delle aree interessate dagli sversamenti di idrocarburi che ha raggiunto quasi il milione di euro grazie a tutti